Adesso però abbiamo un collegamento con l'OMAR Radio perché c'è un'iniziativa, un gemellaggio tra noi e l'OMAR Radio per cui loro adesso spiegano cosa si può fare Vai! L'OMAR Radio, vai! Pronto? Chi viaggia? Un call cast di Lorenz & Martin Un gettone telefonico Pochi minuti E il racconto di un viaggio In tutti i sensi Come ascoltarci? Scarica Spreaker da Play Store e iOS Registrati gratuitamente con nome, mail e la tua password e riceverai una mail di notifica Conferma e il gioco è fatto Ascoltaci quando vuoi su Spreaker, Spotify, iHeart Radio e le migliori piattaforme Echart Frida Grazie a tutti So youtube